Sono Valentina Gusella e rappresento LegaCop Piemonte all'interno del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Torino. Il Comitato ha posto attenzione al tema dell'impresa sociale all'interno del progetto Impresa Informata ormai da qualche anno, soprattutto in concomitanza con la riforma del terzo settore. Si è reso a necessaria sviluppare una consulenza chiaramente gratuita per coloro che erano interessati a sviluppare progetti imprenditoriali anche all'interno del concetto di impresa sociale. Il progetto Impresa Informata è un progetto che ormai conduciamo in sinergia con la Camera di Commercio ed assieme alle altre associazioni di categorie ormai da qualche anno. La questione relativa all'impresa sociale è stata sicuramente sviluppata grazie al coordinamento e alla collaborazione con il Comitato Imprenditorialità Sociale istituito altresì all'interno della Camera di Commercio di Torino.